Chepa, 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 chepa! Il edificio Sabino nasce nel 2016 dalla passione, dalla pazzia di due amici che hanno deciso di dare sfogo alla loro passione cercando di renderla un vero e proprio lavoro. E devo dire che nell'arco del tempo ci siamo riusciti e la cosa ci piace molto, diciamo che è un lavoro che dà soddisfazioni è pesante però riesci ad esprimerti al meglio. L'idea c'era da sempre, diciamo, andavamo a scuola insieme, nell'ultimo anno di scuola ci siamo affacciati al mondo della birra artigianale sostanzialmente non sapevamo veramente nulla di come si potesse aprire in birrificio cioè se proviamo a fare la birra ma non avevamo mai fatto, non avevamo mai tenuto in mano un'azienda insomma non eravamo mai stati degli imprenditori. Comunque abbiamo aperto ed eravamo molto piccoli, avevamo tre fermentatori da 500 litri e adesso invece abbiamo una cantina da 70 litri, quindi siamo comunque un birrificio molto piccolo. Adesso sto bevendo Marte 2.0 che è una delle nostre birre in produzione fissa, diciamo, le chiamiamo le classiche. Abbiamo cinque birre classiche e una serie di birre stagionali e le classiche sono occupate da tre birre luppolate che sono un Indian Pale Ale, una Double IPA e una American Pale Ale. L'American Pale Ale in questo caso è Marte 2.0. Le altre due birre classiche sono Giove, che è una Belgian Golden Stain Gale e una season che cambia nel tempo, cioè nel senso è uguale allo stile, ogni volta produciamo una season però magari per esempio adesso alla spina c'è il re che è un imperial season da 8 gradi 6. La particolarità di queste season è che hanno in comune la linea grafica, cioè tutte quante vanno a ricoprire un personaggio del piccolo principe. Accia è una classica Indian Pale Ale che precedentemente era un po' più forte di creazione, quindi era una Double Indian Pale Ale, una Double IPA. La birre è una teatica fatta a mio fratello, lui fece una sorta di pub all'aperto all'interno di una festa di un paese, e l'altro è carinissimo, se non lo conoscete e ci capitate vicino magari andateci, si chiama Toffia. Ha fatto quest'angolo che si chiamava il pabbaccio e l'abbiamo chiamata Accia. La Loc è una birra diciamo di una creazione alcolica importante, anche se è molto facile da bere, cioè rimane comunque abbastanza corposa per lo stile, però è abbastanza scorrevole. L'idea del birrificio Sabino, cioè la nostra idea di fare birra, è un po' far conoscere il territorio fuori, ma dobbiamo far conoscere anche alla nostra gente quello che significa bere bene, no? Cioè interessarsi di quello che bevi. Perché tu quando vai a cena ti domandi, se mangi la pasta chiedi che tipo di pasta è? Puoi chiedere che stile di birra stai bevendo, cioè qualcosa che renditi conto anche di quello che bevi, no? Il piedistallo che sorregge diciamo l'ulivo è il suo ratti, no? E il tronco dell'agbedo è il ratto dei Sabini del Giambologna. Poi se piace l'ulivo che insomma è l'oro verde della Sabina, no? E il tronco dell'agbedo è il suo ratti, no?